Smaltimento e riciclo dei rifiuti in agricoltura, questo il tema del corso di formazione gratuita svoltosi nella sala convegni dell'azienda agricola Colle San Mauro di Caltagirone che è stato promosso dall'assessorato all'agricoltura e pesca della regione siciliana, Carmelo Nicotra, dirigente della SORT di Caltagirone. La comunità europea e la regione siciliana investe nella formazione e nello sviluppo in agricoltura, va bene un'agricoltura moderna ma un'agricoltura che deve essere rispettosa dell'ambiente, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale e oggi il corso è rivolto appunto a questo, a migliorare tanto l'informazione quanto la formazione degli imprenditori agricoli e dei tecnici agricoli. Il corso, articolato in due giorni, è stato rivolto a giovani imprenditori, donne, operatori economici attivi e ai titolari di aziende agrituristiche, fattorie o aziende didattiche. Ecco cosa rischiano quanti non smaltiscono correttamente i rifiuti in agricoltura. Il rischio innanzitutto è obbligato per legge, sia dalla norma italiana che dalla norma comunitaria. I rischi sono soprattutto nel caso di stoccaggi o depositi temporanei di rifiuti pericolosi, denunce di natura penale e sanzioni abbastanza pesanti. La regione siciliana, nell'ambito di un'iniziativa promossa sul fronte degli investimenti nel comparto agricolo, ha già avviato la nuova programmazione 2015-2020, che prevede svariate forme di investimento a beneficio del settore agricolo siciliano. Ad illustrarne i dettagli è Salvatore Graziano della SOT di Aragona, in provincia di Agrigento. La regione mette a disposizione molti strumenti nel piano di sviluppo rurale, tra cui uno dei più quotati è la misura 331. Con la 331 abbiamo organizzato una serie di corsi sull'onoterapia, sull'attività assistita con gli asini. È un'opportunità da sfruttare sicuramente fino alla fine. La nuova programmazione prevederà sicuramente altre misure a favore dell'agricoltura, Grazie a tutti.